Inigo è arrivato qua a Vicenza al tuo quarto challenger della carriera, come hai giocato oggi, sei felice? Sì, penso che hai giocato meglio di quello che ho pensato prima del partito perché era molto stanco, però penso che la confidenza con la che è arrivato al torneo è stata clave per vincere oggi e sono molto contento per questo. Forse la partita più facile del torneo è stata proprio quella di oggi? Non lo so, sì, per il risultato è anche la seconda volta contro Montagnese, 4-6-1, però non è stato facile perché Minman è un giocatore molto duro e gioca a cada punti e il tennis e la differenza è minima a questo livello e è per questo che è stata una partita difficile. C'era anche tuo papà qua, ti ha portato fortuna? Sì, per questo sono molto felice per me e anche per lui. Lui ha stato giocatore della squadra di futbol, però una, due o tre settimane al anno viene conmigo e è molto molto felice per lui. Ok, grazie, suerte.